E come dicevo siamo in questa barca solare Davide insieme a Senofonte Ambrosini che è il costruttore ed è il tuo momento perché ho visto che ci sono stati molti giornalisti che sono venuti a trovarti e anche gente del giorno e mi fa molto piacere. Sei contento? Contento sì, perché almeno la conoscono. Che è quello che tu volevi? Che è quello che volevo. E mi sembra anche giusto perché una barca costruita dal signor Ambrosini 15 anni fa quando di energia solare si parlava ben poco, lui è stato capace non soltanto di costruire questa barca perché è stata tutta idea sua e costruzione sua, ma anche di pensare alle energie alternative. Mi sbaglio? No. Ok. Così ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità e noi torniamo con Electric Motor News con questa nuova puntata del 2011 da qui dall'Idroscalo di Milano. Non cambiate canale.